vogliamo tornare li cattivi raga troviamo i cattivi cazzo prima peccato abbiamo fatto un bello start io non ci arrivo non ci arrivo bersagli disponibili al lavoro ostile in discesa nell'area occhio in alto terra 1 dove? è morto io anch'io rimando con te hanno restato lì allo shop raga si sta salendo qua in culo ancora lì ancora lì le pighe fanno lì no c'è no si di tre muretto ok quello sopra è craccato quello sopra è craccato ok mi devo curare io si io ne ho coraggio vedete quindi coraggio io nel 5 è nel 5 oh lì craccato di nuovo quello sopra mi dirò una moto qui mi ha tirato da me ancora sopra è senza calaccio qui da sopra adesso ok va beh è su terra è su terra ok nemico in discesa nell'area ok ok io cecchino ok allora prendo anche smg l'obiettivo è eliminare il bersaglio taglia nel parcheggio sembra me ne ha pingato solo uno ma no ok ora me ne pinga due che pinga due 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 pinga ragione ecco d'altro eh craccato quello si è troppato lo vedo giù si è troppato ok taglia eliminato c'è un altro sta sotto sta sotto sta sotto sta sotto si si sta sotto ok ha preso la grucia ha preso il ricercato ha preso il ricercato si c'è la ricercato guarda che prende il portaglio per questo morto morto bravissimo se io ero inizio quello che tu hai detto boh sarà manco che arriva tutto tranquillo senza sparare invece no prende il fantasma eh si 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 eh si si così poi andiamo qua magari ci prendiamo uap la fantasma ok ok io prendo le corazze e uav e lo tengo da parte o sono due team agli hangar guarda me guarda me è craccato è craccato se sono due è craccato 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 eh èJusti magnetato sicuramente ok ci aspettiamo qua dai si si to scendendo alla prima cosa non c'ho una cassa di coraggio sto rubato l'abbiglio stanno vicini stanno vicini sono due chiudi la porta abbiamo un minaccio tronco sono loro l'ho coltato il mio ping l'ho coltato ho coltato ho coltato matt non l'ho fatta ho preso un terzo viene dietro si, mi ha noccato è sfragliato su stanno su dei pompieri aspettate si è un bravo diritto c'è uno qua Si 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 fa il veloce Si 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 fa il veloce Si 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 fa il veloce E si sta salendo sulla torre Fatto Ok Sulla torre Ho un T4 Confermato Prendo taglia Si 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 vai Ok andiamo a chiuderli Oh hanno preso un loadout Avete sentito? Si si l'ho sentito Mi sa che proprio la taglia Guardateli sopra là Se avete lo sniper ve li fate Se no no Perché sono in ferro Noi ce lo sparavo anch'io Ah scusa scusa Sono agli hangar Sono agli hangar Eccolo qua Era dal ponte tipo No sono sotto sotto il ponte Uno fatto Sotto il ponte? Si Datemi una mano sotto La capo è trattata Terra Ti mi hanno intanto quello sotto Perfetto Forse mi sparava qualcuno da davanti a noi Si infatti da montagna Lo dietro lo dietro lo dietro Se ne ho messo terra Che non hai Eh c'è pure la safe Cazzo Eh per quale Sennò ti restavo al volo Si 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 no no Il forse è stato ad arrivare in safe Perché ho la maschera Quindi se riesco ad arrivare Non mi Mai però no Forse riesco ad arrivare Ok se riesci meglio Perché non ce la faccio io Si si no 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 regalo davanti a noi Vai 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 Eh c'è proprio un Un tizio quel filo Da lontanissimo Sono lì all'angolo Sono qua all'angolo in due Eh niente Mi sparavo già dalla montagna Che dovevo davanti Ma poi mi ha sparato un altro da destra Vabbè Eh eravamo belli chiudi lì Andiamo qua Ah ok si Andiamo Eh almeno facciamo la sfida Allora qualcuno di voi che a terra Poi dopo almeno le Ce le facciamo vicino Le carte No c'è un terzo c'è un terzo Cazzo in arrivo I movimenti Ignorate quello che ho Sì lo stesso di me Sì lo stesso di me Sicuro Sì sì non si sono affidati Si sono contratti Stanno andando verso qua No no sta andando Alla perfetto Perfetto Facciamo uno Sì lo stesso Ok Siamo Perfetto Ok Prossimo obiettivo localizzato Mi serve un'arma però Non posso giocare con noi Ho un viso Dovete capire di vita Non ho sparato Stavo scendendo dal paluto Ma hanno sparato Non ho ovviamente Non ho visto da lui Prossimo obiettivo localizzato Ok Vado io vado io vado io Vado io vado io Voi è andata avanti Ok Che minuto Che ce la fai manco Eh piuttosto prendo danno Però ci servono i soldi Ok Ti ho aperto la Forza Ok Ok Stavo dicendo Dobbiamo andare allo shop Ma non ce la facciamo Se il shop Non ce ne sono buoni Che merda davanti a noi C'è Kino C'è Kino C'è Kino Da sopra là Lasciate stare Lasciate stare Ingaggiatelo Giriamo No Sì 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 Anche il gas C'è non ce la facciamo È impossibile Lo stanno pushando Giriamo anche noi con loro Dobbiamo riuscire a farci Secondo me È l'unica Aspetta Li vedete Li vedete Lasciateli stare Lasciateli stare No Ho sparato un cichino Da dietro No 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 Mi vede Mi vede Mi vede Così così puoi restare Così puoi restare Ok Vai Vai Corriamo Corriamo Così poi andiamo dietro In teoria Sì Per un tanto qua dovremmo avere un po' di luce Passo della ventessa Minta ho preso la pistoletta Davvero C'è Questa brucia Non snipe Non abbiamo piastre Ragazzi Sennò dico Un gunfight La prendiamo nel culo Andiamo nella casa qua al volo Venite qua Venite con me Venite con me Venite con me Se ce la fate Sennò c'è poco largo Sennò c'è un buon arrivo Sennò c'è anche una volta Sennò c'è anche un 30 Sennò c'è anche un po' di luce Sennò c'è anche un po' di luce Sì, 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 tiralo. Ne può scompare una anche io? O prendo una autoresta? Alla casa qua c'è gente, ce l'abbiamo anche uno sul tetto qua a destra. Guardate quello del tetto a destra, che non si deve fare. Esatto, malissimo, Maku. Eh, non so, faccio un cazzo, scusate. No, niente, niente. No, non c'è un problema. Cioè, capire di capiamo, sentiamo male, ma ti capiamo. Solo in due, almeno. Solo in due. Ok. Rittati. Avanziamo, avanziamo. Craccato. Uno a terra, uno traccato, e l'entra ancora sopra. Mi auguro, mi auguro, mi auguro. Qua dentro, raga. Mi so' curato, ti ha droppato. Dattemi una mano, presti. È sopra. È droppato qui sopra la mità. Quanto passi? Uno fatto. Confermato, c'è un altro? Bravissimo. Però confermato. Vai, vai, bravo. È sopra, sopra, sopra. Terra, a terra, a terra, a terra. Non è stato solo. Si sta lottando. Morto. Ok. Bravissimo. No, prendendo il terreno. E' sopra il terreno. Sì, sì, piglia, piglia, piglia. Ok. Prova a stare gente col grappolo lì. Scendiamo, andiamo qua da destra. Qui, 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 da me. Guarda, davanti a me. Fatto a terra. Da dove? Da dietro, avanti, da dietro. Non si arriva, eh. Se, 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 se hai cato, eh. Non so dove, raga. Qui, 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 qui. Contatto! Stanno mezzardassi, raga. RICIVI, 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 RICIVI. Siamo morto. Tutti morti. Sì. Ma è possibile che non... Eh, raga, ne mancavo uno, ne mancavo uno. Dazzi, non puoi prendere la cassa di giastri qua. Sì, sì, adesso sono la grande. Ultima possibilità. Finita il lavoro. Ha campionato da qualche parte, questo. Si può sparare da qua, ecco lui. Vabbè, 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 vabbè. La legge ha craccato. Ha craccato one shot, lì. VUSSO, VUSSO, VUSSO. Calmi, la calma. Molto. Vabbè, 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 vabbè.